ehi salutare a tutti dove stiamo come sarebbe guarda non dire puttanate guarda esce in diretta bravo e la pancia e la pancia e la pancia quindi tu mangi e lei digerisce ecco qua lauretto con la sigla sigaretta non è vero gira un po a mimmo fatti vedere come no non gira laura fai vedere il ghiacciaio ecco qua no giano non è vero Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti.